Salve a tutti, in questo piccolo video vi presenterò un lavoro che concentra l'attenzione sul rinforzo della cintura addominale. Gran parte delle asana e degli esercizi che preparano le asana vengono eseguiti con l'appoggio della schiena a terra o in posizione seduta. Sciogliamo la posizione delle gambe, solleviamo bene la colonna, portiamo in avanti le braccia e cominciamo a distribuire il peso dalla zona degli ischi al sacro. Controllo la cintura mentre scendo lentamente in retroversione. Porto le braccia oltre la testa mantenendo bene la schiena a terra. Espirando porto le ginocchia sul petto nella posizione di pavana mudkasana, la posizione fetale. Comincio a preparare il mio corpo e, inspirando, distendo verso l'alto le gambe. I piedi sono a martello, le gambe sono forti, il piede spinge quasi a reggere il soffitto. Stacco la posizione delle braccia, le proietto verso l'alto nella posizione del pilastro stambasana. Poi con una ispirazione riporto le braccia oltre la testa. Espirando fletto. Alla prossima espirazione raccolgo il bacino e porto le ginocchia sulla fronte in arda al asana, la posizione parziale dell'aratro. Ritorno lentamente portando con calma la colonna vertebrale sul pavimento senza sollevare la testa. E poi appoggio le piante dei piedi vicino al bacino. Controllo che la schiena sia ancora aderente. Inspiro e con una espirazione tranquilla aggancio sotto l'incavo del ginocchio. Abbasso la spalla. Una seconda espirazione mi porta a raccogliere verso l'alto la schiena e preparo la posizione parziale della barca. Controllo in arda al asana il corpo. Fermo l'appoggio delle mani e controllo di nuovo la discesa a terra. Mani vicino al bacino. Retroversione. Spingo dentro l'ombelico. Controllo l'appoggio della colonna. Mantengo le mani a terra e preparo il corpo a salire in nera lamba sarvangasana. Raccolgo. Spingo bene verso l'alto. Le mani premono a terra. Le gambe sono proiettate verso l'alto a lungo. Espirando riporto il corpo nella posizione che avevo in partenza. Srotolo la schiena. Reallineo e vado direttamente in arda. Navasana. Mi fermo e rilasso. incrocio le gambe. Sollevo la schiena. Controllo la cintura e fermo le mani davanti al petto.